Questo fa un ulteriore gioco rispetto all'altro modello che è quello della web tv e quindi delle esperienze comunitarie di cui si parlava prima. Cioè Preta, se lei in questo momento dovesse scommettere tra web tv e ptv, sceglie la web tv, giusto? Cioè il futuro può essere quello della web tv piuttosto che dell'ip tv? A meno che non sono sky, sì, fondamentalmente sì. Pascotto, resti pure in collegamento Preta, le faccio sentire un'opinione anche degli altri nostri ospiti. Antonio Io credo che ci sia un'evoluzione in corso, intanto bisogna sempre tenere presente che c'è una differenza sostanziale tra internet e la televisione. La televisione nasce come media di intrattenimento, internet nasce anche come media di scambio dati e informazioni. Internet ha un vantaggio che comprende un po' tutti gli altri media, internet è un po' giornali, è un po' televisione, è un po' radio, è anche un po' cinema, se una web tv trasmette un film. Ha questo vantaggio, ma il fenomeno è in evoluzione, non è soltanto il prodotto generato dagli utenti quello ad avere successo. Magari avrà successo anche la televisione che nasce dai grandi gruppi che adesso stanno investendo in un nuovo modello di business. Ficara